Stanco? Ma che stanco? Io prima delle quattro non capuro mai, Gioia! Pari o dispari? No, fatto io per te la palla. Ti volevo informare che è appena entrata a far parte della nostra squadra Nick. Fa dei video orrendi che mette in rete però, ha più di 2 milioni di like. E torniamo tra poco con Nick e il grande nonno DJ. E' mai rotto il cazzo. Un bettino, sai? Io lo so che questa pervertita si accoppia con mio figlio che ha soltanto 19 anni. In effetti 19 sono pochi, eh. Ma parco pochissimi! Che ne dici se noi stasera ci mettiamo lì e facciamo la pasta fatta in casa? Guarda che quella è una leggenda metropolitana, amore. Nessuno fa la pasta fatta in casa. Sto vedendo lì nascosto con un'altra donna. Ma sei pazzo? Quanta mia? 48. Cioè tu tradisci quel gran pezzo di gnocca di Marika con sta Birelli. Andiamo? Oggi è la finale del torneo di Pedal. Si ricordi che non è più un ragazzo. Ma mica sono un vecchio però. Guarda che nella vecchiaia ci sono anche un sacco di lati positivi. Ad esempio? Ad esempio non sei morto giovane. Oddio. Ti amo. In che senso? Si tratta di Luca. E' successo che si è messo con una. Che ha questa? Si droga, beve malata. C'ha 48 anni. 48 anni? Pure lui, ma che è in epidemia eh? Se io dico Commodore 64, lei capisce immediatamente cosa voglio dire. Ma perché è anziana? Ma mica perché è colta.